Buongiorno carissimi e ben trovati in questo martedì della tredicesima settimana del tempo ordinario. Beh, c'è da dire che ci sono situazioni difficili che si presentano nella corso della vita. Beh, già nella prima lettura di oggi siamo a capitolo diciannovesimo della Genesi. Fuoco scende dal cielo e Lot viene invitato ad andare via. Gli angeli fecero premura a Lot dicendo su prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui per non essere travolto nel castigo della città di Sodoma. Lot intugiava, più volte c'è la ripresa da parte degli angeli e ecco viene invitato ad andare via. Situazione difficile che la troviamo anche nel brano del Vangelo. Gesù sale sulla barca, siamo al capitolo ottavo di Matteo, dal versetto 23 al versetto 27. Nel mare c'è una grande sconvolgimento, quindi ci sono anche qui situazioni che non dipendono da noi, ma come viverle fa la differenza. Ecco allora che gli apostoli invocano, chiedono, salvaci Signore, siamo perduti. Innalzano una preghiera al Signore che sta lì dormendo e lui si sveglia dice perché avete paura gente di poca fede? Poi si alzò, minacciò i venti, il mare e ci fu una grande bonaccia. Mi immagino un po' la scena, quindi di fronte a questo sconvolgimento Gesù viene svegliato, non è che si premura subito di alzittire il mare, il vento eccetera eccetera. Ma ha una parola prima per gli apostoli, quindi in questa barca che si muove, Gesù li guarda e dice perché avete paura gente di poca fede? E poi penserà di far tornare la bonaccia. Tutti furono pieni di stupore. E allora di fronte alle difficoltà che ripeto non dipendono da noi, ma certe volte le troviamo alla porta del nostro cuore e che facciamo? Il versetto del Vangelo dice io spero Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Ecco se tu Signore non mi parli, io sono come un uomo che scende nella fossa. Ecco aspettiamo che il Signore ci parli, ma più che altro che il nostro cuore gli dì ascolto, perché Lot ci ha fatto un po' di resistenza e infatti poi Sara si è voltata e diventata anche una stata di sale. Sappiamo come andrà a finire. Allora, vogliamo perdere il tempo? Certo che no. Vogliamo sempre governare la nostra vita con la nostra testa? Ma certo che no. E allora dobbiamo fidarci del Signore. È molto complicato, molto difficile perché abbiamo le nostre convinzioni, lo sappiamo molto bene, però nella barca della nostra vita, quando Lui vi è dentro, la nostra fede è il porto sicuro. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.